www.mesmerism.info 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 Cos'è che definiamo improbabile, quasi impossibile? Qual è il numero che ci viene in mente se pensiamo a qualcosa che quasi sicuramente non accadrà? Uno su un milione? Uno su un miliardo? L'intuizione di Olsen è che in un tempo finito capitano molto più di un milione di cose, molto più di un miliardo, se è per questo, un numero quasi infinito di eventi, la maggior parte dei quali assolutamente imprevedibile. Questo in termini puramente matematici ha un solo significato. Che una cosa impossibile accada, non solo, è molto probabile. È sicuro. Ciao! 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 Grazie per la visione Grazie 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 Grazie